Le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Sono arrivato il 4 giugno nel 2000, il primo giugno e il 4 giugno nel 2008. Poi da quel momento adesso sono diventati i giorni uno dopo l'altro. Io stavo girando per il mondo il mese di luglio, li vengono i suoi in Italia, vado in ufficio all'agosto e non c'era nessuno. 5 milioni al giorno, eh? E la gente dove è? Ah, sono in ferie. E la gente dove è in ferie una cosa. C'è... E la gente dove è in ferie, è in ferie, è in ferie, è in ferie, è in ferie.